Sono Fabrizio Ferrari, arrivo da Pont-Saint-Martin e lavoro la pietrollare. Diciamo che ho voluto cercare una pietra un po' particolare con un fondo magari un po' più duro e una parte morbida sopra dove da lì io dalla parte morbida ho ricreato tutta la parte più difficile cioè magari i due grappoli e le due foglie che abbracciano come un mantello questa bottiglia. Invece nella parte sotto è rimasta la parte più dura dove da l'idea di una roccia dove la bottiglia e quest'uva è appoggiata su questa roccia. Io ho voluto così ricreare questa cosa che a me è piaciuto e penso che è piaciuto a tanti altri.